Oggi la maggior parte delle persone che hanno una broncopolmonite possono essere efficacemente curate a domicilio. L'importante è rivolgersi al medico di famiglia che conosce bene le condizioni della persona. Un giovane può guarire in una settimana, dieci giorni con dei farmaci presi per bocca e con un adeguato riposo a casa. Anche un anziano può essere curato efficacemente al proprio domicilio, a meno che non abbia delle condizioni di salute di base estremamente complesse. Oggi con i servizi ADI domiciliari l'anziano può guarire al proprio domicilio con terapie adeguate alla situazione ed evitare così alcune frequenti complicazioni che ci sono nei ricoveri in ospedale, come il decadimento cognitivo o complicazioni generali che difficilmente possono poi essere recuperate.